Discarica! Non discarica! Chiediamo la chiusura definitiva di una discarica che ormai è satura, che ha condizionato quello che era la vocazione del nostro territorio per anni. Non abbiamo intenzione di continuare a sostenere i pesi ambientali di chi non vuole scegliere e non ha il coraggio di scegliere come risolvere i suoi problemi.